AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SCHIATTA MOSTRO! SCHIATTA! ASSIGGI AL MIO PIOMBO SEI DI SONOZIONE DI MASSA! Questo perché non bisogna mai darmi delle armi da fuoco nei giochi Già iniziamo con le cose belle Forse è meglio se ci allontaniamo, mi scusi Ho l'abilità di correre Ok, ok Quello è già morto Si inizia proprio bene Ok, dammi una chiave, grazie mille Charles, Charles, stai buono No, ma vai ricaro Eh, vabbè, ma Ma che razza di scarpe c'ho, scusa Quella della Chico, che non riesco a correre Versione bambino Ok, forse se riesco ad andare sul treno Lo posso riuscire a prendere delle armi Scusa, collega, potresti sparare? Ok, sono sul treno anch'io Posso riuscire a sparare a questo dannato No, non così, non così Fermi tutti Come non detto Ok, io scappo di qua Come lo mettiamo? Sono più furbo, sono più furbo di Charles Corri, 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 corri Oh, non mi lasciate indietro, per favore C'è un treno assassino che mi stai... Sparateli, sparateli Bravissimo, bravissimo Ma te la patente per il treno te l'ha andata tipo dieci volte Minimo, no, no Non mi lasciate No, mi scusi, non compro niente Non mi pare molto sincero Salve Beccati un tronco in faccia No, qualcuno mi dia una mano Fantastico Sono tornato dall'oltretomba apposta per farti fuori Charles Non ho alcuna paura di te in realtà Ah, ok Allora, chiave rossa per questa zona Quindi si dà, è una sottospecie di labirinto gigante E ogni minuto posso correre Ok Il fatto è Ma come cavolo me la devo gestire? Quante chiavi ci sono esattamente? C'è quella che sta cercando di scappare alla velocità di Sonic praticamente Qua cosa serve? Eh, la miseria Spero che qui dentro ci sia l'arma di Godzilla praticamente Con tre chiavi Oh, è tornato il collega col treno Ci vuole dare un passaggio per ucciderlo Ah, 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 ah Vedi che qua c'è quella verde? Si va in scena Si va in scena Charles Vieni qui da Zio Hero Vieni qui Vieni qui Schiappa 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 Tutto Dove non c'è la scala Stiamo riempendo di piombo Ma assaggia il piombo sotto specie di scarafaggio trenetico Ok, credo che sia tipo fuori uso momentaneamente E cerchiamo di darci la gambe Oh Calma, eh Calma, eh Ok, uno ce l'abbiamo Ma vai 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 Del tizio biondo No, no, lasciami in pace Non compro niente Non voglio niente Comunque sì, allora Non è che lo uccidi Ma lo posso stordire Stai seguendo l'altro mio amico Amico mio non venire Non portarlo da me Perché mi fai questo? Perché lo porti da me? Ma usa la chiave C'è un'altra di qua No, non c'è niente Ha fatto doppio Fantastico Qua cosa serve? Oh mio Dio Ah Ho capito Dentro i capannoni si trovano gli attrezzi Per poi uscire Ok Possibilità di essere il treno Ah, quindi posso essere il treno Non so cosa mi servono tutti questi soldi Sarò sincero Ma mi piacciono i soldi Quindi why not Forse posso salire sul traliccio E per la bava Siamo 6 C'è un traliccio Non sta venendo da me, vero? Dite che mi ha visto Se mi ha visto Ma questo sasso è un po' ubriaco La mia impressione Chiave rossa Chi ha una chiave rossa Prossimo alla chiave rossa Qualcuno deve avere la chiave rossa per porta 5 minutes later No, fermi tutti E qui per terra Ok, attiviamo questo Attiviamo questo Ok, sono entrato Non credo che possa entrare qui 5 minutes later Non puoi entrare, vero? Puoi entrare! Puoi entrare invece Ah, posso avere un oggetto alla volta? Cavoli No, no, no Allora, fermi tutti Ma mi vuoi lasciare in pace? Vai via Ciao Vattene Vattene Non voglio niente dei treni Non mi piacciono i treni Ok, posso ti coprire questo Che effettivamente è un altro vagone E qua posso avere l'accetta Ok, qua me la devo gestire di astuzia enorme Perché sono chiuso Ok Vabbè, qui E quando c'è il cervello Tutto big brain questo Che corriamo, 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 corriamo Accetta Vai 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 Stanno sparando Stanno sparando Magari riesco a prendere anche l'altro vagone del treno Prendiamo quest'altra chiave Credo che possa servire anche questa per il finile Perfetto Manca la chiave gialla No, è morto un collega Ai 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 Così non va bene Che è successo? No, è finita Ma siamo seri Ha vinto un assassino Ma dai, ma ero l'unico che faceva qualcosa Stavo risolvendo tutto io Dannazione Five minutes later Ok, credo di essere scappato da CiuCiuCharge E invece E invece c'è un impost- CiuCiuCharge fantasma Schiatta mostro Schiatta Assaggia il mio piombo Sei in istruzione di massa Questo perché non bisogna mai darmi delle armi da fuoco nei giochi Il problema è che questi ragazzi non mi pare che siano molto molto sveggi E preferiscono stare sul treno Piuttosto che cercare di vincere effettivamente la partita Ok, shh No, si è distratto sull'altro Qualcuno è riuscito ad aprire effettivamente una porta Ho sentito Buono così, buono così, buono così Ce la possiamo fare allora Sono due treni? C'è qualcosa che non va Perché sono due? Magari Ma sono tutte qua le chiavi No, 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 non voglio niente Non puoi entrare, vero? Puoi entrare! Puoi entrare invece! Via, 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 via Dai, non puoi usare i cheat Perché un treno ti dovrebbe entrare in casa? Se qui dentro servono ben tre chiavi Ci sarà la soluzione a tutto questo dilemma Però non serve la chiave blu Ho preso quella sbagliata E con tutta l'ho preso solo quella sbagliata Perché sono diventati tre? Oh, si moltiplicano! No Stami indietro Con quattro! Sono circondato! Oh mio Dio! No, 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 no Come ha fatto? Sono diventato un treno È un'epidemia! Ma che schifo! Sono diventato un treno Vabbè, dai Come nuova vita, secondo me Ah, ho la corsa anche da treno E delle trappole Oh, è l'attacco Ah, ma qui gli oggetti cambiano di volta in volo Ma cos'è il player che mi ha ammazzato? Questo qui con questa faccia o quello che rimane? Ah beh ragazzi, dividiamoci e cerchiamolo. Tipo Scooby-Doo. Ah, posso raccogliere i soldi anche da treno. Ah sì, rilascio delle trappole per orsi. Magari sull'asfalto si vedono un po' troppo. Però posso entrare negli edifici? No, questa cosa è illegale. Posso chiudere? Ah, sono così gentile che chiudo pure la porta, ma nessun problema. Che succede ragazzi? Vogliamo bloccare il treno? Ah, ho capito. Dai, tutti insieme! Ok, siamo tornati. Mizzica se sei brutto ogni volta che passa. Dov'è quel treno in fa? Eccolo! Assalza il mio piombo! Vi salvo io ragazzi! Non abbiate paura! Sparate, sparate al treno! Sparate come se non ci fossero domani! Ok, 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 ce ne possiamo fare. Devo trovare tutte le chiavi e poi gli attrezzi per uscire ad aprire di là. No, è quella rossa! Che culo vai così! Vai, 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 vai! Buongiorno! Allora, qua c'è questa chiave inglese. Qualsiasi cosa è soffia, non lo so. Dove è? Fate piano! Vai piano, vai piano! Ok, ok, se ne è andato di là. No, è... Che idiota! È entrata in casa mentre ne siamo usciti! È troppo intelligente. Ok, adesso serve una chiave blu ragazzi qua. Qua c'è la chiave blu. No, è verde questa. Ok, qua no. Però abbiamo un treno extra. Abbiamo sbloccato il treno extra ragazzi. Hanno aperto... Hanno aperto il fienile! Questa è la prima volta che lo vediamo. C'è un trattore. E la chiave è gialla anche. Posso guardare il trattore, scusa? No. Ma ti può andare incontro con un trattore? Secondo me fa male. Ma quel treno è proprio affezionato al nostro amico lì. Che cavolo è dall'inizio, è da prima. Mi sta supplicando io. Guarda come corre! L'ha preso. Aia! E ora viene a cercare a me giustamente. Ok, tizio. Tizio, qui, 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 qui. Vieni qua, vieni qua. Dai, fidati di me, vieni qua. Qua, qua. Vai, vai. Vai, siamo tutti con te. Vai! Vai che scappiamo! Quanto siamo forti! Non ho fatto niente questa volta. Però siamo fortissimi. Comunque non riesco mai a capitare come treno. Come non detto, sono il treno! Sono io il treno! Ciao, mi dispiace doverti ammazzare in questa maniera, ma non è proprio il massimo, lo so. Eh, lo so, è la vita. No, no, lasciatevi in pace. Sono la scuola di agri persone. Eh, accelerazione? Investiamolo? Sono tremendo! Ma la distruzione di massa? Comunque mi hanno già tanneggiato la vita. Chi è? Chi è che fa le queste? No, 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 no. Ho visto movimenti strani. Eccolo laggiù. Guardalo, guardalo. Il genio del male. Quel che crede di potermi scappare. Il genio del male. Si è nascosto, secondo me. Non è finito! Era qua un secondo fa. Mannaggia il campo di pannocchia, mannaggia. Vabbè, sono rimasti in tre e non riusciranno mica a fare chissà cosa, vero? Oh, signorini, non ho alcuna intenzione di farvi del male. Venite pure qui del signor trenino. Che vi porto a passeggio nell'oltretomba. Eccoli! Eccoli però, aspetta, 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 aspetta. Fermi, fermi, fermi. Eh, questo qua... No, eh, mi vuole sparare. Eh, mi vuole sparare. Acceleriamo. Mangiamo questo. Questo qua sta accelerando. Ok, 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 rilasciamo invece le trappole. Eh, non riusciranno ad avere vita facile con me. Mi dispiace. Ok, vieni qua. Fatti pappare. Fatti pappare. Vieni qui. Vieni qui dallo zio trenino Thomas. Vieni qua, dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Non puoi scappare all'infinito. Dai, vieni qui. Dai, vieni qua che non ti faccio niente. Ma quanto puoi essere lento un treno? Sono un treno ragno, dai! Dai, ma un tizio piedi più veloce di me. Non era così nel gioco originale. Trampola corsa. Trampola corsa. Trampola corsa. Me lo pappo! Me lo pappo! Gustoso. Ecco l'ultimo, ecco l'ultimo, ecco l'ultimo. Sta dando bordo del treno. Col cavolo che ti faccio scappare. Vieni qua. Vieni qui dallo zio trenino Thomas. Aia! Oh, come spara? Questo è arrabbiato. È arrabbiato ma non è molto bravo a sparare. Io passo dietro gli alberi. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Aiuto. Aiuto, c'è il treno. Mi sta investendo il treno! Qualcuno mi dica... Salve! Sono l'apocalisse. Ok, anche questo è morto. Quante persone devo uccidere ancora? È rimasta una tizia se non erro. Perché ogni tanto vedo che spawnano di nuove, quindi sempre un problema extra. Dov'è la signora? Passiamo per la boscaglia. Credo che si veda abbastanza un treno ragno in queste dimensioni dietro un alberello così piccolo. Però è un inizio. Venga qua, venga qua signora. Venga qua, venga qua. Non le faccio niente. No, 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 non scappi. Non scappi, non scappi. Venga qua, venga qua. Venga qua. Venga qua. Venga qua. Buono. Ok. Li ho massacrati tutti. Ho vinto. Troppo forte. Troppo forte questo gioco. Un assassino proprio. Io. Con questa faccia signori. Un treno. Trino ragno della morte.